E adesso è arrivato il momento di una band che è nata nel 2002 e come dicono loro erano desperados dell'ufficio di collocamento ovvero erano senza lavoro e sempre al verde ma loro non si sono resi e hanno deciso di puntare tutto sulla musica così hanno fittato uno spazio industriale hanno comprato un computer di seconda mano ed hanno inciso, anzi registrato, il loro primo album il risultato? Un mix di punk rock, ska e moderni campionamenti con R2B, gli R5! R2B, gli R5! 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 Gli R5!